Se avete visto il video sul bradisismo, ora possiamo approfondire quali sono i comportamenti corretti da tenere. È utile ricordare che sebbene tutta l'area dei campi flegrei sia caratterizzata dal bradisismo, i comuni maggiormente interessati sono tre, Pozzuoli, Bacoli e Napoli. Di Napoli in particolare il quartiere di Bagnoli e parte delle municipalità di Soccavo Pianura e di Posillipo. All'interno di quest'area, definita zona di intervento, è stata individuata una zona di intervento ristretta, nella quale potrebbero verificarsi maggiori effetti se il bradisismo dovesse proseguire o intensificarsi. Tale zona include esclusivamente parte dei comuni di Pozzuoli e Napoli, nello specifico il quartiere di Bagnoli. Quindi, chi vive nella zona di intervento e, ancora di più, nella zona di intervento ristretta, deve sapere quando e come è stata costruita la propria abitazione, con quali materiali, su quale tipo di terreno e, soprattutto, se è stata modificata rispettando le norme sismiche. Questo perché, se le deformazioni del suolo dovessero subire un aumento importante in accelerazione e la sismicità dovesse aumentare in frequenza ed energia, si potrebbero verificare danni strutturali significativi agli edifici e alle infrastrutture. Per questo, attenzione, se dopo un terremoto noti danni alla tua casa o all'edificio in cui ti trovi, ad esempio crolli di intonaci o controsoffitti, caduta di tegole, comignoli e antenne, puoi richiedere un sopralluogo tecnico al tuo comune o ai vigili del fuoco, che valuteranno la situazione e ti indicheranno cosa fare. In questa azione di verifica, il sistema di protezione civile sta già facendo la sua parte, con un piano per individuare gli edifici pubblici e privati più vulnerabili, rispetto ai quali saranno identificate le misure di riqualificazione sismica più idonee e le risorse finanziarie necessarie. Per maggiori informazioni è possibile chiedere all'Ufficio di protezione civile del proprio comune. Come è già stato detto, le fasi di sollevamento rapido del bradissismo sono spesso accompagnate da numerosi terremoti, che generalmente non raggiungono magnitudo molto elevate, ma essendo molto superficiali, sono facilmente avvertiti dalle persone e possono provocare danni, edifici o infrastrutture. Per questo i comportamenti da tenere a mente sono essenzialmente quelli relativi al rischio sismico. Vediamo i principali. Fin da subito, se sei in casa e sul luogo di lavoro, allontana mobili pesanti da letti o divani, fissa le pareti scaffali, librerie e altri mobili alti. Appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete. Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi degli scaffali. In cucina, utilizza un fermo per l'apertura degli sportelli dei mobili, dove sono contenuti i piatti e i bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa. Tieni a mente i punti sicuri dove ripararti in caso di terremoto. Durante il terremoto, se sei in un luogo chiuso, mettiti nel vano di una porta inserita in un muro portante, quello più spesso, vicino a una parete portante o sotto una trave, oppure riparati sotto un letto o un tavolo robusto. Non precipitarti fuori, ma attendi la fine della scossa. Se sei all'aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche. Potresti essere colpito da vasi, tegole o altri materiali. Fai attenzione anche alle possibili conseguenze del terremoto, come il crollo di ponti, frane, perdite di gas. Dopo il terremoto, assicurati dello stato di saluto delle persone attorno a te e, se necessario, chiama i numeri di emergenza. Nel frattempo, se sei in grado, presta i primi soccorsi. Prima di uscire di casa, indossa le scarpe. Non usare l'ascensore e fai attenzione alle scale. Potrebbero essere danneggiate. Raggiungi, quindi, le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile. Come è stato sottolineato nel corso delle altre videolezioni, il bradisismo è una fenomenologia legata alla natura vulcanica della caldera dei Campi Flegrei. Come il bradisismo, anche altri pericoli caratterizzano l'area. Alcuni di questi sono già presenti, come le emissioni di gas dal sottosuolo. Altri potrebbero verificarsi in caso di futura eruzione. Ma partiamo dai gas vulcanici. Alcuni gas in concentrazioni elevate possono essere pericolosi per la salute dell'uomo e degli animali. Tra questi, l'anidride carbonica, la CO2, essendo in odore e in colore, è molto insidiosa. Nell'area dei Campi Flegrei ci sono alcune zone particolarmente interessate da questo fenomeno, come la solfatara e l'area di Pisciarelli a Pozzuoli. Il loro accesso, quindi, potrebbe essere limitato da ordinanze del sindaco. Vediamo ora cosa puoi fare. Evita o riduci il più possibile la permanenza in locali interrati e semi-interrati. Prima di accedervi, ricordati di arieggiarli, soprattutto se sono chiusi da molto tempo. Evita le aree vicine alle emissioni di gas vulcanici, soprattutto di notte e in assenza di vento, con nuvolosità o presenza di nebbia. Se noti la presenza di animali morti senza motivo apparente o altre situazioni potenzialmente pericolose connesse alle emissioni di gas vulcanici, allontanati immediatamente dall'area e informa subito la Polizia Municipale. La storia della caldera è fatta di eruzioni esplosive. Anche in futuro potrebbero verificarsi eruzioni di questo tipo. Proprio per fronteggiare simili eventi è stato elaborato un piano nazionale che definisce le attività di protezione civile da organizzare nelle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme collegate ai livelli di allerta del vulcano, che sono verde, giallo, arancione e rosso. Attualmente il livello di allerta del vulcano è giallo e la fase operativa adottata è di attenzione. Anche in questa fase, quindi ben prima di un'eventuale eruzione, l'attività del vulcano può dare luogo a fenomeni pericolosi, come il bradisismo e le emissioni di gas vulcanici, di cui abbiamo già parlato. Ma cos'altro si può fare nella fase di attenzione per prepararsi ad un'eventuale futura eruzione? Se vivi, lavori o soggiorni nel territorio dei campi flegrei, informati se la tua area rientra nella zona rossa o gialla. Se vivi in zona rossa, ricorda che l'unica misura di salvaguardia in caso di possibile eruzione è l'allontanamento preventivo della popolazione. E se si dovesse passare alla fase di preallarme? Chi vive in zona rossa potrà allontanarsi già in questa fase autonomamente, ricevendo un contributo economico da parte dello Stato. Chi decide di restare, ebbene si prepari ad andarsene, quando le autorità lo indicheranno. Chi è ricoverato sarà trasferito in un'altra struttura sanitaria idonea al di fuori della zona a rischio. Per chi vive in zona gialla, che è esposta alla ricaduta di lapilli e ceneri vulcaniche, è importante assicurarsi di avere in casa dispositivi di protezione per le ceneri vulcaniche, come mascherine protettive e occhiali antipolvere. Se si hanno patologie respiratorie o cardiovascolari, è necessario consultare il proprio medico, per capire come proteggersi al meglio in caso di evento. E cosa accade se si attiva la fase di allarme? In questa fase operativa sarà inviato sui cellulari della popolazione interessata il messaggio IT Alert, che avvisa di una possibile eruzione imminente. Il tempo massimo stimato per l'evacuazione della popolazione dalla zona rossa è di tre giorni, cioè 72 ore. Tale attività sarà coordinata dalle autorità di protezione civile. Chi vive in zona rossa dovrà andare a casa e preparare le valigie, ricordando di prendere con sé solo le cose essenziali, documenti, medicine. Chi decide di uscire dall'area autonomamente dovrà seguire le vie di allontanamento previste nella pianificazione, rispettando gli orari stabiliti. Chi sceglie il trasporto assistito dovrà raggiungere l'area di attesa assegnata dal piano di protezione civile comunale, secondo le tempistiche previste dal comune. Potrà portare con sé il proprio animale domestico. L'interdizione dalla zona rossa potrà durare molto tempo e l'accesso all'area sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Attenzione, però, è bene ricordare che allo scattare della fase operativa di allarme non è detto segua poi effettivamente un'eruzione vulcanica. E se invece l'eruzione ci fosse? A questo punto tutte le persone della zona rossa avranno trovato autonomamente una sistemazione al di fuori dell'area a rischio o saranno state trasferite nelle regioni o province autonome gemellate. Chi vive in zona gialla, in caso di ricaduta abbondante di ceneri vulcaniche, se le autorità di protezione civile lo richiederanno, potrà dover lasciare temporaneamente la propria abitazione. Gli sarà assegnata una sistemazione all'interno della regione Campania. Durante la ricaduta di ceneri sarà necessario restare in casa con le finestre chiuse. Prima di bere l'acqua dal rubinetto, è importante assicurarsi che ordinanze o avvise comunali non lo vietino e lavare bene i cibi che sono venuti a contatto con le ceneri vulcaniche. Se si deve uscire, è consigliabile indossare una mascherina protettiva e occhiali antipolvere. Infine, è molto pericoloso guidare auto o moto nei tratti di strada coperti di cenere. Per il rischio vulcanico, in cui rientra anche il fenomeno bradisismico, l'informazione è la chiave per essere preparati in caso di evento. È importante affidarsi solo alle fonti di informazioni istituzionali, tra cui siti web dell'Osservatorio Vesuviano degli NGV, del Dipartimento della Protezione Civile e di Regione Campania. Un'altra azione fondamentale è conoscere cosa prevede il piano di protezione civile del proprio comune. E se si ha bisogno di particolare assistenza in caso di emergenza, perché si è anziani o si ha una disabilità, è importante segnalarlo per tempo al proprio comune, assicurandosi che nel piano siano previste misure specifiche. Nell'area dei Campi Flegrei si svolgono periodicamente esercitazioni e incontri informativi. La partecipazione a queste iniziative è fortemente consigliata, perché consente di comprendere meglio la crisi bradisismica in atto, il rischio vulcanico dell'area e la risposta di protezione civile. Tutte le informazioni di cui abbiamo parlato in questa video-lezione sono disponibili anche nelle pagine dedicate ai Campi Flegrei sul sito della Campagna di Comunicazione Nazionale Io non rischio, sulle buone pratiche di protezione civile. Visita il sito www.iononrischio.gov.it per saperne di più. Grazie a tutti.